No ragazzi, la Juventus ieri non ha vinto, ieri ha vinto Calvarese, smettetela di esultare, non esultate per il gol di Cristiano Ronaldo per la doppietta, soprattutto non esultate per il rigore perché il rigore non c'era e soprattutto Rugani è amico dell'arbitro. Vergognatevi se avete esultato per la vittoria perché non è giusto, il campionato di Serie A è finito. Sul serio, questa è la verità, adesso vi porto alcuni esempi e li commentiamo insieme di quello che è stato scritto giustamente da alcuni giornalisti e da alcuni giornali su Empoli Juventus che è stata rubata dalla Juve. Io sono da Juventino, mi vergogno, cambierò squadra. Cominciamo con il sempre vigile Ivan Zazzaroni che ieri live, proprio nel corso ancora della partita, si chiede che il rigore fosse. BAH. Quindi diciamo un suo giudizio molto equilibrato, evidentemente un giudizio tecnico del regolamento alla mano mostra come in effetti il rigore non ci fosse perché dalle parole di Zazzaroni si capisce chiaramente che il rigore non c'era. Se Zazzaroni si chiede come mai fosse rigore è evidente che il rigore non c'era, ma proprio vediamo il suo giudizio tecnico in quel BAH, B-A-H, che insomma è veramente incontestabile. Dovremmo vergognarci per quel rigore segnato da Ronaldo. Ma la risposta di Diego Maradona Junior al tweet di Zazzaroni è straordinaria ragazzi, conferma ancora una volta l'errore di Calvarese. Niente di nuovo Ivan, punto esclamativo, senza spazio, che ci vorrebbe in italiano, solo in questo paese sono permesse certe cose, hashtag vergogna. Solo in questo paese, beh direi che comunque in questo paese sono concesse, sono permesse anche tante altre cose, ma non sto qui a sottolineare quali sono. Però devo dire che il commento di Diego Maradona Junior è veramente insuperabile in fatto di verità, insomma. Cioè è chiaro che poiché la risposta di Maradona e di questo tenore è evidente che il rigore non c'era. Tra l'altro nessuna allusione da parte di Diego Maradona Junior ad eventuali imbrogli e complotti, no, molto sereno, molto sereno il suo giudizio. Ma questo è nulla a confronto del tweet di Enrico Varriale. Pure lui, un minuto dopo Zazzaroni, va detto alle 7.16 di ieri, corsi e ricorsi storici, virgola, hashtag Calvarese. Cosa avrà voluto dire Enrico Varriale? Non avrà mica voluto gettare discredito sull'arbitro? Non avrà mica voluto insinuare che l'arbitro in mala fede ha concesso rigore alla Juventus? Non avrà mica voluto insinuare che l'arbitro in mala fede e disonesto ha alterato il risultato sportivo della partita? No, perché fosse così ci si aspetterebbe da un giornalista serio e professionale come Enrico Varriale un bel esposto alla Procura federale contro l'operato di Calvarese per aver appunto commesso un illecito sportivo. Attendiamo riscontri. Ma poi c'è anche un altro genio che si propone in questa trafila ed è Giovanni Scotto, con il suo Scotto tweet, che scrive Juventus in difficoltà ed ecco arrivare il rigore inesistente. Giustamente l'arbitro non osa guardare il VAR. Guardare il VAR? Il VAR è un uomo che ieri era irrati, quindi lui si lamenta, Scotto, che l'arbitro non sia andato a guardare in faccia ad irrati, ma vabbè. Altrimenti avrebbe dovuto fischiare fallo contro. Fallo contro. Hashtag sempre lo stesso film, che è hashtag innovativo, e poi Empoli Juve, un hashtag tra l'altro che ha usato solo lui, quindi un hashtag inutile. Beh, insomma, devo dire che l'approfondimento sul regolamento di Giovanni Scotto è disarmante, probabilmente l'ha scritto lui. Per esempio, sottolinea il fatto che giustamente l'arbitro avrebbe dovuto rivedere le immagini su una sua decisione senza essere richiamato a farlo. Cioè, io do un rigore e poi dico, no, però aspetta, adesso lo vado a rivedere io stesso, perché magari ho sbagliato. Perché il concetto di chiaro ed evidente errore e di chiamata all'onfield review sono sconosciuti al signor Scotto, che quindi forse un ripasso di regolamento lo dovrebbe fare. Ma chi è Giovanni Scotto? Andiamo a vedere. Giovanni Scotto, giornalista, quindi non un pivello che passa per strada. Dovrebbe conoscere il regolamento, visto che è un giornalista sportivo. Infatti scrive, per Cordillano Roma, Radio Radio e TV Luna. In precedenza coordinatore presso Gianluca di Marzio.com e attualmente corrispondente di Calciomercato.com. Napoli, con un bel pallone che sta forse ad indicare che tifa per il Napoli. Ma chi lo sa? Ma chi l'avrebbe mai detto? Beh, proseguiamo con Luca Telese, un altro grande protagonista della Juventus su Twitter, per parte anti-Juventina naturalmente. Ma certo, rigore per la Juve senza la maiuscola dopo la punteggiatura. Si poteva dubitarne? Faccina che sorride. Anche in questo caso io mi domando cosa avrà voluto dire Luca Telese. Avrà per caso voluto insinuare la malafede dell'arbitro calvarese? Avrà voluto insinuare l'alterazione, in malafede, del risultato sportivo di Empoli-Juventus, che costituirebbe nel caso illecito sportivo. Proporrà un esposto alla Procura Federale Luca Telese contro questi fatti. Essendo un giornalista ed essendo quindi tenuto anche per deontologia a riportare la verità e a ricercarla per conto di tutti, aspettiamo anche in questo caso le risposte. E passiamo, uscendo da Twitter, ai giornali. Abbiamo tre perle clamorose. La prima è quella del napolista. Il napolista, con una bellissima foto dell'arbitro calvarese, tra l'altro credo un po' datata perché non mi sembra che questa divisa sia attuale per quanto riguarda gli arbitri, e scrive La Juventus soffre a Empoli, poi Calvarese e Cristiano Ronaldo la raddrizzano e vince 2-1. Articolo di napolista, non si sa chi l'ha scritto, non c'è una firma, non c'è una persona che si prende la responsabilità di scrivere queste cose, ma la responsabilità è solo generica del direttore del napolista, e scrive rigore generoso sull'1-0 per i toscani. Lo scorso anno Calvarese non vide il mani di Bernardeschi a Cagliari, poi una prudezza di Ronaldo. Anche in questo caso, non è per caso che il napolista sta insinuando che Calvarese, in mala fede, ha alterato il risultato sportivo della partita, commettendo un illecito sportivo. Aspettiamo anche in questo caso un esposto del napolista presso la procura federale nei confronti del signor Calvarese, per onestà intellettuale e coerenza, che sicuramente contraddistingue questa testata giornalistica molto seria e professionale. Andiamo avanti con Repubblica, Repubblica che invece fa emergere un altro fatto veramente vergognoso. Io non so come possiamo avere esultato per la vittoria della Juventus contro l'Empoli. Non ci siamo resi conto di una cosa vergognosa. Empoli-Juve, Rugani parla con l'arbitro, il labiale fa infuriare i tifosi. Poi la descrizione, insomma, che Rugani avrebbe detto a Calvarese dai Calva con questa espressione facciale, vediamo di Rugani. Questo è il caso del corner che è stato concesso all'Empoli senza che nessuno avesse toccato il pallone dopo un contrasto aereo. Bene, quindi Rugani si rivolge all'arbitro dicendo dai Calva, come per dire non l'ha toccata nessuno e siccome Rugani e Calvarese, con questa espressione dai Calva, sono evidentemente amici fraterni, Calvarese cosa fa? Conferma il corner. Quindi evidentemente un complotto non andato a buon fine, delusione da più parti. Da sottolineare come Repubblica, invece di assumersi la responsabilità di fare quello che vuole fare, cioè riportare la non notizia che Rugani si è rivolto all'arbitro chiamandolo Calva, coglie l'occasione per riportare il fatto, aggrappandosi all'altra, tra virgolette, notizia, cioè il labiale fa infuriare i tifosi, cioè usa la scusa, l'alibi della furia dei tifosi per riportare un fatto che è nient'altro che una fake news, non approfondendolo e non specificando che è normale nel calcio che si verifichino certe cose. Chiudiamo col botto, ragazzi. Su calciomercato.com, testata che sempre si distingue per l'equilibrio nei confronti della Juventus, viene riportato un articolo di Napolimania, che come sapete è sicuramente un sito anche lui, anch'esso molto molto equilibrato quando si parla di calcio, che dice e sentenzia la Serie A è finita, non ha senso proseguire, chiedere a Calvarese. Questo scritto ieri sera alle 21.30, quindi neanche tanto a caldo, ci hanno anche riflettuto, prima di scrivere questo, articolo di Marco Giordano. E leggiamo, nell'articolo non è andata così perché la Juventus oggi ha vinto grazie all'arbitro e chi dice il contrario è in mala fede. In mala fede non sarà Calvarese, voglio sperare e credere che sia così. Beh, facile scriverlo dopo averlo messo nel titolo. Voglio sperare e credere che non sia Valeri che era al VAR in mala fede. Parentesi, la teoria della valutazione della spinta è veramente poco credibile. Quel rigore però che ha regalato il pareggio non poteva essere fischiato. Giustamente il rigore vale gol, quindi tu dai il rigore e regali il pareggio. Poi se Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore vale comunque il pareggio per la Juve. Almeno doveva essere visto, doveva essere visto, quindi si richiama la on-field review che non c'erano i requisiti per chiamare. Perché non è accaduto? Perché ogni dannato campionato deve essere macchiato. Ora, se qualcuno di voi nei commenti mi può spiegare dal punto di vista grammaticale cosa significa questa frase e perché manca un punto interrogativo ve ne sarei grato perché io non ho capito. Perché la frase è stata scritta in questo modo, ma non mi sembra molto corretto in italiano. Il quadro è troppo chiaro. Pareggi col Genoa, stai perdendo con l'Empoli, gli dei traballano, gli dei traballano ed ecco il rigore. Allora, brevemente, cercando di ritrovare un pochino di serietà. Siamo al delirio più totale, lo abbiamo già visto in altre occasioni, forse questa volta è anche peggio. Come al solito, qualsiasi arbitro scenda in campo con la Juventus deve subire, rischia di subire veramente tutto questo disagio da parte dei professionisti, da parte dei giornalisti e se la vede nera, se la vedono veramente nera questi arbitri che sono colpevoli, tra virgolette, solo di aver arbitrato la Juventus. Che siano decisioni giuste o che siano decisioni sbagliate vengono sempre e comunque accusati di complotti, accusati di mala fede e di aver voluto favorire la Juventus. Era già successo con l'arbitro Orsato, con il povero omonimo del fratello o del cugino di Orsato che non c'entrava nulla, lo ricorderete, l'anno scorso per la famosa mancata espulsione di Pjanic contro l'Inter e accadrà ancora e ancora e ancora purtroppo. Il problema è che siamo al cospetto, ripeto, di giornalisti professionisti che insinano il dubbio, che insinano la mala fede, che alludono a complotti, ma poi non si assumono la responsabilità di andare avanti, di fare le denunce, di portare i fatti. Si limitano a scrivere quelle poche parole che scrivono, soprattutto su Twitter, attirando tutta la massa di idioti che gli va dietro, ma non si assumono mai veramente la responsabilità di essere giornalisti, professionisti, con dei compiti molto importanti, molto importanti in generale nel calcio, ma in generale l'informazione ha un ruolo fondamentale nella società e in questo caso sta rivestendo un ruolo fondamentale nell'affondare la società, nel distruggere la serenità di parlare del calcio. E Agneli lo aveva detto, c'è troppo odio, c'è troppo odio, non è più uno sfottò, è un odio vero, è un odio militante, costante e quotidiano. E niente, non so cosa dirvi, io dobbiamo soltanto sviluppare gli anticorpi contro queste cose e andare avanti sereni affermando la verità e documentandoci, studiando e superando invece il livello basso e mediocre di certa gente che o non studia, in particolare il regolamento del calcio, oppure ancora peggio, lo studia, lo ha studiato, lo conosce, ma lo racconta in maniera difforme alla verità. E questi sono veramente dei criminali della parola. Mi sento di dire questo. Festeggiate, festeggiate la Juve che ha vinto e ha meritato di farlo. Ci vediamo presto e sempre Forza Juve! Forza Juve! Grazie a tutti